ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al mio nuovo acchiappo ebbene sì eccolo qua al polso lo vedete sta bene bello è un bello è un bel santos di cartier orologio diciamo iconico che affonda le radici nel 1904 1906 ai primi del secolo viene considerato il primo orologio da polso realizzato per uomo fino a quel momento c'erano da donna da signora e fu realizzato da cartier per l'amico alberto santos dumont che era un uno dei pionieri dell'aviazione che aveva bisogno di un orologio da polso per pilotare l'aereo i primi aerei no questi avventurieri possiamo così considerarli così ecco iconico perché ho scelto il cartier santos ero un deciso con il gegelle cutre reverso poi ho optato per questo qua semplicemente perché è più sportivo no il gegelle cutre con il centurino e la morte sua col bracciale non si può guardare invece io volevo un orologio in questo momento braccialato e il santos con il suo bracciale è veramente la fine del mondo anche speciale come bracciale ecco perché poi ho scelto un orologio con i numeri romani che io non detesto perché il santos deve essere con i numeri romani c'è poco da fare una delle poche eccezioni che riesco ad accettare è su questo orologio perché perché è rappresentativo perché se da sempre così e quindi bisogna farsi di andar giù in questo caso mi sono fatti andar giù un orologio quadrato poi voi direte ma è sempre rifiutato di acquistare no rifiutato il tagoia monaco che è quadrato no è questo qua è quadrato qual è la differenza la differenza è gigantesca perché il tagoia monaco è veramente quadrato spigoloso cagli spigoli e poi escono due ansette così questo qua è quadrangolare più del quadrato e poi è sinuoso alleanze che sono tutt'uno con la cassa che fanno una un'integrazione di design con la cassa queste curve la lunetta particolare e poi soprattutto è curvo il tagoia al polso è piatto è un orologio piatto questo qua guardato il profilo è curvo anche il vetro curvo quindi si adagia sul polso in una maniera molto differente rispetto al tagoia monaco ora detto questo cos'altro ci si può dire niente che l'ho scelto blu perché preferisco questo colore anche se poi come vedremo nella panoramica perché voglio fare una panoramica forse la leggibilità di col bianco migliore ma ho preferito il blu preferisco il blu e per acquistarlo questo orologio qua è del 21 ho dovuto dare via il mio mega constellation l'ho sacrificato sull'altare per acquistare questo qua che è del 21 è di un secondo polso seminuovo diciamo e però vi devo già avvisare che dovete avere pazienza nel senso pietà perché una panoramica di un orologio di già due o tre anni insomma vedrete delle airlines delle piccole righette ci sono nelle macro ingrandisci e le vedi per forza specie in questo tipo di orologi qua che sono molto lucidi quindi non si scappa detto questo io direi di girare la camera dare un'occhiata alla panoramica del mio nuovo cartier santos e poi torniamo qua per le considerazioni finali iniziamo subito con le sorprese derivanti dalle misurazioni effettuate sul campo larghezza cassa 37.5 mm ingombro trasversale al polso 47 mm spessore 9.3 e ansa da 21 mm le specifiche per questo modello prese dal sito web ufficiale indicano il diametro cassa in 39.8 mm ho misurato più volte in credulo cercando di provare in quale posizione trovare 39.8 mm ed ho scoperto che la si ottiene misurando anche le spallette di protezione ma escludendo la corona cosa alquanto fuori dagli standard la misura della cassa invece 37.5 ed è questa che convenzionalmente viene utilizzata per definire quel parametro in ogni caso meglio così ci troviamo di fronte ad un orologio compatto che però a causa della forma restituisce una certa presenza al polso vi ricordo che gli orologi quadrangolari a parità di larghezza vestono maggiormente rispetto agli orologi tondi in questo caso si adagia bene sul polso specie grazie ai poco più di 9 mm di spessore un dato particolarmente interessante se si considera l'impermeabilità dichiarata di 100 metri ciò che però lo caratterizza fortemente la curvatura longitudinale grazie alla quale si incolla sul polso nella posizione centrale senza sballonzolare troppo da un lato all'altro curvatura che è ben visibile osservandolo lateralmente e qui si può notare come anche il vetro zaffero sia longitudinalmente curvo sicuramente una scelta dettata dallo stile e che risulta più complicata e costosa di un vetro piatto a livello di design stiamo parlando di un orologio per il quale è possibile utilizzare il termine iconico senza tema di smentita cassa di forma ma stondata nei punti giusti con ansie sinuose che si protraggono verso il bracciale certo nel tempo ci sono state modifiche agli albori ad esempio non esistevano braccialati e non vi era questa continuità stilistica tra gli elementi ma è pur sempre un design riconoscibile e figlio dello stile santos inutile dire che gran parte del fascino è attribuibile alla lunetta lucidata a specchio che sovrasta la cassa con quelle viti di fissaggio a renderla particolarmente riconoscibile qui voglio far notare che il verso del taglio delle viti non segue un dato pattern sembrano messe a caso per molti appassionati questo rappresenta un punto debole insormontabile io ci convivo tranquillamente e mi dà quel senso di artigianalità manuale propria del fissaggio casuale considero invece un minus il fatto che sia molto ma molto sensibile ai graffi qualsiasi hardline apparirà come amplificato e questo può infastidire la vista nonostante ciò credo che questa lucidatura riesca ad impreziosire l'orologio attira lo sguardo e mette in risalto le restanti lavorazioni sia grazie alla differenza di finitura che a quello scalino che si forma tra lunetta e cassa una cassa spazzolata sia sul dorso che sul profilo e che vede il classico bisello lucido a separarle smussatura che ovviamente segue la silhouette della cassa e che quindi si presenta come una doppia s contigua che sfocia poi al centro nella parte superiore delle spallette queste ultime sono un chiaro segno distintivo della volontà di conferire un certo spirito sportivo all'orologio la corona è a pressione ma i 100 metri di impermeabilità e le spallette ci dicono che si può utilizzare quasi come everyday watch se non fosse per il rischio di graffiare la famosa lunetta vista in precedenza in ogni caso lo ritengo un orologio che appare indubbiamente di pregio ed elegante ma che può essere utilizzato in qualsiasi contesto o perlomeno io non mi pongo limiti eviterei solamente la spiaggia e le escursioni campagnole all'aria aperta permettetemi una nota aggiuntiva riguardo della corona di carica che è etagonale e con il tipico spinello sintetico sfaccettato sull'estremità alquanto elegante ed apprezzabile potrebbe sembrare difficoltosa da manovrare ma nella realtà dei fatti il grip è buono e grazie anche alla bassa resistenza alla rotazione è facilmente utilizzabile bassa resistenza che molto probabilmente è dovuta alla buona ingegnerizzazione del meccanismo interno che altri non è che il 1847 mc calibro automatico di architettura proprietaria realizzato in house sappiamo per certo che cartier si è sempre concentrata sulla produzione di movimenti al quarzo e nel 2005 acquistò la manufattura roger valfleurier proprio per potersi permettere di essere indipendente anche nel campo dei calibri meccanici oggi valfleurier fa parte del più ampio gruppo richmond e realizza calibri per molti dei brands del gruppo panerai ed ivc ad esempio tecnicamente parlando si tratta di un meccanismo di appena 3.8 mm di spessore che viaggia 28.800 alternanze orarie e che dichiara una marcia giornaliera di meno 3 più 7 secondi al giorno la mia misurazione sul campo seppur per un breve lasso di tempo ha riportato un più 6 al giorno chiaramente non è visibile in quanto fortunatamente il santos prevede un fondello in acciaio fissato tramite viti abbastanza spartano e didascalico lascia anche lo spazio per una eventuale incisione e romanticamente parlando questo mi sembra proprio uno di quegli orologi nei quali una dedica ci starebbe a fagiuolo ma ruotiamo l'orologio diamo lo sguardo al lato a e troviamo il classico tipico iconico e sempre verde quadrante del santos tranne che non è verde ma è blu un blu effetto soleil che degrada scurendosi verso i bordi occorre precisare che si tratta di un effetto ottenuto tramite laccatura manuale e che risulta particolarmente vellutato alla vista in certe condizioni di luce appare talmente scuro da sembrare nero di certo è un effetto accattivante che però viene messo a dura prova dalla curvatura del vetro un trasparente così incurvato può creare dei riflessi che infastidiscono la visuale d'altronde sono le gioie e i dolori di questa scelta particolare così come sono poco visibili i numeri romani posti sui lati del quadrilatero essendo rodiati e lucidi tendono a mimetizzarsi con il quadrante occorre inclinare un poco l'orologio per farli comparire e farli risaltare da una parte è un minus non da poco dall'altro crea un effetto vedo non vedo è uno scintillio metallico che ritengo è quanto pregevole quei numeri romani che nonostante non siano di mio gusto in senso assoluto rappresentano da sempre una caratteristica fondamentale del santos e così va preso io l'ho comunque scelto blu perché la sufficiente leggibilità è data dalle due sfere a gladio che risultano ben visibili da qualsiasi angolazione insomma non è così necessario scorgere gli indici per poter determinare l'orario e la loro leggibilità è proprio dovuta alla presenza di superluminova pigmento luminescente che anche al buio ci consente di leggere l'ora insomma sia di giorno che di notte occorre fare affidamento a sulle due lancette è un dato di fatto altro discorso per l'ultimo elemento dell'orologio dal quale si capisce che quando si tratta di fare bracciali cartier ha un certo savoir faire naturale maglie singole completamente spazzolate con viti decorative a testa lucidata un insieme che al polso spicca per qualità visiva e capacità di decorazione ma sono le soluzioni tecniche che lasciano sbalorditi intanto il sistema di sgancio rapido del bracciale con un semplice clic è possibile rimuoverlo e inserire un eventuale altro cinturino realizzato da cartier per questo modello certo non è la prima né l'unica casa ad utilizzare un tale metodo ma lasciatevi dire che è il migliore che io abbia mai testato semplice efficace comodo e sicuro c'è poi il sistema per la rimozione delle maglie e qui si entra quasi nella fantascienza in corrispondenza delle maglie terminali vi sono dei pulsanti incorporati praticamente invisibili ad occhio nudo premendo il pulsante viene spulso il perno ed è possibile smontare la maglia il perno rimane inserito nella maglia rimossa in modo da non poter andare perso per rimontare la maglia è poi sufficiente spingere il perno all'interno e con un clic la maglia è fissata geniale comodo e sorprendente gli si può quindi perdonare la chiusura farfalla dato che rimuovere e aggiungere le maglie è un gioco da ragazzi senza nemmeno correre il rischio di graffiare qualcosa possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali sistema per smontare il bracciale veramente ingegnoso è veramente torna veramente bene devo dire che il sul bracciale c'è poco da dire cioè il sistema per sganciare le maglie è di una genialità incredibile veramente unica ora il problema quale che è un secondo polso questo e di solito il cartier santos arriva con il kit bracciale e cinturino a parte in questo caso non c'era cinturino perché la ragazza era una ragazza la proprietaria di questo orologio quando l'ha comprato secondo me si è fatta un pochino abbindolare da chi gliel'ha venduto voglio dire perché non erano presenti le maglie aggiuntive quindi il venditore l'ha dovuto ordinare da cartier per farmela avere tre in più e non c'era il cinturino che ci deve essere nel kit quindi mi dà l'impressione che si è andata in negozio da cartier si è fatta mettere l'orologio a misura e qualcuno si è tenuto le maglie e non gli ha dato il cinturino il secondo cinturino quindi se voi siete mossi a compassione e volete regalarmi un cinturino di cartier di quelli che vendono che hanno lì nei kit io sono qua pronto a recepirlo poi se c'è da dare 10 20 euro ve li do volentieri però se mi fate il regalo sono tutto contento vabbè non c'era il cinturino l'ho preso ugualmente prezzo buono mi ha scontato l'omega constellation bene quindi ci ho rimesso sopra pochi soldi come dico spesso per avere un orologio che finalmente mi piace mi piace anche se pieno di punti deboli pienissimo di punti deboli ragazzi cioè il vetro curvo fa dei riflessi che sono particolari che danno che fastidio la leggibilità dei numeri romani è praticamente quasi inesistente scompaiono compaiono scompaiono meno male che ci sono le sfere che si vedono e uno percepisce qual è l'orario poi la lunetta così lucida ragazzi veramente questo qua è uno di quegli orologi che bisogna viaggiare con il capcode con il panno per lucidare in tasca perché basta che ti indossi qualcosa e si va a graffiare tutta la lunetta qua lucidissima e forse in questo caso è meglio se non siete in grado di sopportare questi graffietti è meglio che prendiate quello con la lunetta color blu per esempio no che mi sembra che è anodizzata roba del genere per quanto riguarda la leggibilità invece ho valutato anche quello che un quadrante bianco ma essendo il bianco un quadrante che poi spicca di più al polso lo fa sembrare più grande già rettangolo quadrangolare è grande ho pensato che non fosse caso ho preferito prenderlo blu con la leggibilità leggermente inferiore altri punti deboli io sinceramente non ne vedo qua ci sono solo punti positivi con le finiture della cassa le avete viste sono eccezionali il calibro di manufattura il bracciale ingegnerizzato in questo modo io non lo avevo mai visto e sinceramente sono molto soddisfatto di questo orologio si 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 ora chiaramente non è che mi sono dimenticato del gg lecult reverso prima o poi anche lui rettangolare e lunghino sarà anche lui la mia collezione spero di non dover poi sacrificare altro però è anche vero che un tot di orologio un tot numero di orologi dopo un po dopo non fa in tempo nemmeno ad utilizzarli no quindi sarebbe meglio rimanere nel nell'ambito di una trentina di orologi e non di più poi vedremo comunque sono molto soddisfatto di questo orologio orologio nonostante la leggibilità sia quella che ripeto dalle sfere si percepisce all'orario al posto al polso mi sta bene anche perché tutti lo danno per 39.8 mm tutte le specifiche poi quando l'ho misurato e 37 e mezzo perché si misura la cassa non è che devo misurare le spallette di protezione tutti gli altri orologi li misuri senza spalletti di protezione questo l'ha misurato 39.8 con le spallette io quando l'ho misurato 37 e mezzo certi punti veniva anche a 36 37 ho detto ma c'è qualcosa che non va prendi prendi ho scoperto che misurando anche le spallette viene 39.8 ma non è l'ingombro che dà il polso meno male perché insomma se fosse stato 39.8 la cassa veramente più le spallette sarebbe stato grande così invece è secondo me abbastanza indossabile poi è particolare dai quando vedi un orologio così al polso dice ecco lì è santos o cosa vuoi dire o è una copia di quelle che fanno pagani design e il gente o è o è santos c'è poco da dire boh mi sembra di aver detto tutto ragazzi spero vi sia piaciuto il mio nuovo orologio spero di averlo velo spiegato abbastanza bene anche punti deboli critici quello che è e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti Grazie a tutti.